picco d'affa e allarme siccità arrivano ordinanze contro lo spreco d'acqua ancora incendi in fiamme un deposito nelle pesarese l'innovation road show porta alla scoperta della casa delle tecnologie emergenti baia flaminia torna ad ospitare la spiazza dedicata ai cani pesaro le top in italia per la ciclabilità un'opportunità anche per il turismo una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 12 luglio che apriamo parlando dell'ondata di calore che sta attraversando il nostro territorio che dovrebbe contrassegnare un picco d'affa tra oggi e domenica in cui la protezione civile l'ha classificata da ondata da bollino rosso ovvero un massimo grado d'allerta per le condizioni di salute soprattutto dei soggetti più fragili le temperature nelle pesarese stanno toccando i 37 gradi ma con picchi di 42 e 43 gradi percepiti al momento non si registrano delle criticità negli eccessi al pronto soccorso dove però resta monitorata la situazione ed è un'affa a cui fa allerta il tema della siccità l'assessore regionale all'ambiente stefano guzzi ha giudicato preoccupante la portata dei corsi d'acqua nelle pesarese ed ha invitato i comuni ad emettere delle ordinanze specifiche per il limitare i prelievi e gli usi impropri delle risorse idriche vediamo stiamo attraversando indubbiamente un periodo molto molto caldo e molto siccitoso mi rivolgo in questo caso particolarmente alle popolazioni e ai territori della provincia di pesaro urbino perché faccio questa considerazione perché buona parte di quei territori la città di fano la città di pesaro ma anche molti altri comuni limitrofi soprattutto quelli della costa si approvvigionano di acqua potabile attraverso acque di superficie in particolare l'acqua del fiume metauro e che poi viene ovviamente potabilizzata ed immessa negli acquedotti sia di fano che di pesaro e anche di altri comuni come abbiamo visto non sta piovendo e non pioverà da qui perlomeno ai prossimi giorni prossime settimane il fiume metauro è già molto provato anche dal fatto che durante l'inverno non abbia mai nevicato e quindi anche le falde in montagna sicuramente saranno molto abbassate e più scarsi rispetto al passato allora qual è il vero problema il vero pericolo che da qui alle prossime settimane proprio nel pieno dell'estate se continua a non piovere noi potremo avere seri problemi di approvvigionamento idrico in parte della nostra provincia nelle città più importanti della costa allora qual è la mia raccomandazione noi abbiamo scritto come dipartimento ambiente della regione Marche abbiamo scritto a tutti i sindaci della provincia di peso urbino chiedendoli di fare le ordinanze per il risparmio idrico quindi dare diciamo così dell'indicazione ai cittadini e porre anche dei divieti di utilizzo per quello che si può fare a meno ma io voglio andare oltre al di là dell'obbligo delle ordinanze quindi invito i sindaci a fare le ordinanze invito i sindaci a poi vigilare sul fatto che le ordinanze vengano rispettate perché si può fare a meno di utilizzare l'acqua per un po di cose che non sono obbligatorie ma quello che ci tengo particolarmente proprio rivolgendomi a tutti i cittadini ognuno di noi nelle proprie attività nelle proprie consuetudini nelle proprie abitazioni faccia attenzione allo spreco di acqua se ognuno di noi ogni giorno risparmia due litri di acqua pensate rapportato a centinaia di migliaia di persone quanti litri di acqua giornalieri si possono risparmiare quindi ecco c'è un'obbligatorietà che chiedo ai sindaci di far rispettare attraverso l'ordinanza attraverso i controlli ma c'è anche un buon senso di attenzione al quale io richiamo tutti quanti i cittadini. Alte temperature che coincidono con un'alta frequenza di incendi le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono all'intervento dei visili delle fuoco a corsi questa mattina all'impianto di stoccaggio e recupero a carte metalli carte ferri in strada Fornacevecchia. Una colonna di fumo si è alzata fra la torraccia e la zona delle caselle autostradali a causa delle fiamme propagate si fra i materiali cartacei contenuti nelle deposito. L'arrivo tempestivo dei pompieri intervenuti con tre mezzi ha consentito di circoscrivere l'incendio ed evitare che si propagasse ulteriormente. L'area è stata messa in sicurezza nelle corse della mattinata e non ci sono stati feriti. Sul posto per le indagini anche polizia e carabinieri forestali. Un litigio degenerato in un accoltelamento è quanto accaduto la scorsa notte in Viale Carducci-Amarotta. Vittime dell'accoltelamento sono stati due ragazzi di Senigallia mentre l'aggressore sembrerebbe essere un ediciottene delle nord Italia senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine per altri reati. Gravi le condizioni dei due che hanno subito l'aggressione riportando ferite alle braccia e all'addome ma che fortunatamente non sono però in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti che verrà ricostruita grazie alle telecamere e alle testimonianze. È stata ritrovata l'arma utilizzata per l'aggressione mentre l'emotivo che si ipotizza abbia portato ad una così violentalità al momento sembra essere legata ad una questione di stupefacenti. Torniamo su Pesaro e lo facciamo per occuparci della casa delle tecnologie emergenti che oggi ha ospitato al teatro sperimentale un evento di carattere nazionale come l'Innovation Road Show. Vediamo di che cosa si tratta. Appuntamento importante oggi a Pesaro, Innovation Road Show Pesaro, un convegno dedicato alla tecnologia emergente e in particolare indirizzata a attività culturali e creative. La CCSquare è importante perché è una delle 13 case delle tecnologie emergenti che ci sono in tutta Italia che sono state finanziate dal Ministero delle Imprese del Made in Italy proprio per essere dei prototipi, dei precursori della sperimentazione in un contesto urbano e quindi sul campo dell'utilizzo delle tecnologie emergenti, delle nuove tecnologie. Quindi Pesaro ha la grande opportunità di sperimentare per prima l'innovazione che può essere abilitata dalle tecnologie e di essere in rete con tutte le altre 12 città che stanno facendo altrettanto su altri temi. Da noi i temi sono quelli di Pesaro per cui sono la cultura, il turismo e l'engagement, proprio la partecipazione attiva della popolazione. Quindi la casa delle tecnologie emergenti non è qualcosa che sta da una parte dove dei ricercatori fanno le loro cose, ma è proprio una grande opportunità di trasferimento tecnologico, innovazione aperta e sperimentazione urbana. Senza l'intervento dei cittadini e dei visitatori la sperimentazione urbana non si fa. Ci aspettiamo che anche la città possa recepire il messaggio che vogliamo dare e spiegare cosa sta facendo la casa delle tecnologie che dopo un anno di lavoro già può presentare diversi risultati perché abbiamo 15 progetti di ricerca che sono in corso, abbiamo fatto diversi momenti di trasferimento tecnologico, abbiamo collaborato a sviluppare nuove modalità di fruizione dei eventi culturali che sono i più importanti città come quella della Fondazione Nuovo Cinema e il Cirofe digitale per cui grazie alle attività di sviluppo che sono state fatte dentro la casa e sia il ROF che i Festival del Cinema hanno potuto fornire nuove modalità di fruizione digitale al pubblico. Stiamo incubando 20 start-up che abbiamo selezionato con un bando di open innovation sempre grazie all'attività della casa, quindi possiamo dire che anche la giornata di oggi può essere un po' la sintesi di quello che sta succedendo grazie alla casa. Come un campo abbiamo coltivato e oggi raccogliamo i frutti dove ci sarà appunto il confronto con tutte le case delle tecnologie italiane e siamo molto scontenti e soddisfatti che anche a partecipare come start-up siamo arrivati anche a sopra 70 imprese che appunto si vogliono buttare nel mondo dell'innovazione tecnologica. Ieri c'è stato un laboratorio dove abbiamo fatto vedere a tutte le case delle tecnologie italiane cosa stiamo facendo e a che cosa stanno lavorando. Però adesso è fondamentale la formazione. Ci siamo resi conto e vediamo anche dai dati italiani che c'è un gap che dobbiamo assolutamente colmare che è quello tra la formazione dei ragazzi per entrare nel mondo dell'industria e del nuovo lavoro digitale perché ci siamo resi conto che le industrie hanno bisogno di competenze. Io credo che noi come italiani e Pesero è oggi la capitale del nostro patrimonio culturale abbiamo l'onere di portare questo grande patrimonio di conoscenza, di sapere, di esperienza nella modernità attraverso i linguaggi che sono propri non solo delle nuove generazioni ma in fondo anche nostri linguaggi che aumentino il convolgimento, che si abbinino a un'attività che ci piaccia o no facciamo continuamente tutti quanti che è quella di stare online per cui ben vengono tutte le tecnologie come la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale, la blockchain e tante altre di cui ci occuperemo oggi per non banalizzare i contenuti ma per potenziare, per dare nuove prospettive all'incontro tra noi e il patrimonio musicale, archeologico, museale straordinario che abbiamo in Italia. E dopo un anno di assenza Pesero torna ad attrezzarsi con una spiazza dedicata ai cani e ai propri padroni e infatti è ripartita oggi l'attività di Abbaia Flaminia. Pesero torna ad essere dotata di una spiaggia per cani. Il tratto di arenile di Abbaia Flaminia in prossimità della Fuce del Foglia torna infatti ad essere Abbaia Flaminia ovvero uno spazio dedicato ai possessori di cani che vogliono godersi un bagno al mare senza rinunciare alla presenza del proprio amico a quattro zampe. Il tutto in una spiaggia che resta libera ma predisposta al servizio di noleggio di ombrelloni lettini così come di canoe, kayak o soup. Il tutto col supporto di un'educatrice cinofila sempre presente. Oggi l'inaugurazione di un servizio che sarà di nuovo gestito da Giovanni Dallago che si è giudicato il bando comunale assieme alla società E-Wave. Siamo felicissimi oggi di riaprire la stagione anche per i nostri amici a quattro zampe e quest'anno con qualche novità e poi nei prossimi anni sicuramente si andrà a strutturare una cosa un pochino più concreta. Rimane totalmente una spiaggia libera dove si possono noleggiare lettini e ombrelloni. In determinate giornate ci saranno delle persone qualificate come l'educatrice cinofila Cinzia Signoretti che ci aiuterà e supporterà non solo a noi e nella gestione ma anche tutti i nostri amici a quattro zampe e i clienti. Importantissimo perché è l'unico posto dove si possa portare a Pesaro il cane al mare e lasciarli sempre a casa con questi caldi non mi sembra che sia una buona idea. Soprattutto la doccia perché un po' di acqua per sciacquarsi dalla sabbia mi sembra fondamentale. Noi di Wave metteremo a disposizione dell'attrezzatura sportiva sia per i clienti che per i clienti accompagnati dai cani quindi promuoveremo giornate di soup dog, kayak con i cani, noi abbiamo anche degli foil che vedete alle mie spalle e saranno sempre a disposizione dei clienti e di chi volesse noleggiarle. In più ogni venerdì di luglio, poi si programmerà anche per agosto, avremo delle giornate dedicate a far provare gratuitamente queste attività ai clienti. Con l'educatrice cinofila è importantissimo per dare i consigli, per cercare di evitare che qualche cane si possa litigare, fare delle attività insieme al proprio cane e quindi divertirsi ma anche come è successo poter, se succede qualcosa a un cane poter intervenire proprio per fare ad esempio un pet festide, cioè fare un massaggio cardiaco, una respirazione a un cane, quindi è molto importante che ci siano delle persone, quindi sono qualificate anche gli altri ragazzi dalla nostra struttura per fare questo, quindi l'importanza di poter avere qualcuno che in toto ti aiuta col tuo cane. E continuiamo ad occuparci della tematica dedicata agli asili a Pesore e in particolare alle lunghe liste d'attesa nei nidi di infanzia. Lo facciamo attraverso questa intervista alla consigliera comunale Giulia Marchionni. Si muovono le graduatorie e con fatica si provano a snellire le liste d'attesa che vedono oltre 120 famiglie pesaresi al momento tagliate fuori dalla possibilità di accedere ai servizi educativi e in particolare a quelli della fascia 0-3 anni. Fascia in cui il Comune è riuscito ad aumentare la propria capacità d'accoglienza di 30 posti in più rispetto all'anno precedente, come riferito la scorsa settimana dall'assessora Camilla Murgia. Un ampliamento contenuto che attenua la ferita ma che non risolve un problema che si ripete cronicamente e che secondo la consigliera comunale d'opposizione Giulia Marchionni necessiterebbe di una nuova programmazione. Purtroppo in centinaia rimangono ogni anno fuori e non c'è possibilità per loro di trovare una soluzione, non solo nei servizi educativi comunali ma anche nel privato è difficile trovare posti. In questi giorni ci sono decine di mamme che mi stanno telefonando perché piano piano vedono che le graduatorie si stanno muovendo. Purtroppo però non tutte riescono a trovare una risposta nel comunale nonostante i movimenti delle graduatorie e alcune si trovano anche in difficoltà a trovare un posto nei servizi privati. Ecco, il tema vero è che andrebbe fatta una nuova programmazione, una programmazione che parta ora per il 2025, in cui il Comune decide di mettere più risorse a disposizione, risorse interne senz'altro e magari perché no cercando un'interlocuzione anche con il privato che possa garantire qualche posto in più, magari attivando delle convenzioni. Intanto il Comune si muove in prospettiva giudicandosi il bando ministeriale da oltre 2 milioni di euro per costruire un nuovo nido da 90 posti che vedrebbe la luce nel 2026. Bisogna dare atto del fatto che nel 2023 la città di Pesaro ha avuto 100 nuovi nati in meno. Ora, pensare di costruire un nuovo nido che non possa dare risposta oggi, ma darà risposta soltanto nel 2026, credo sia leggermente anacronistico. Se pensiamo soprattutto al fatto che nel 2026, quando questa struttura forse vedrà la luce, ci dovrà essere personale formato e soprattutto risorse in disponibilità dell'amministrazione comunale per poter assumere personale formato e garantire i posti, i 90 posti che sono stati annunciati. Questo potrà essere forse una risposta per il futuro, non lo sappiamo neanche se la denatalità inciderata al punto da eventualmente non avere più neanche bisogno di quei posti, però è evidente che oggi quella risposta non venga sopperita dal nuovo nido, perché il nuovo nido non potrà servire ai bambini che a settembre 2024 si troveranno a casa senza la possibilità di accedere ai servizi educativi. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Oscar, un nostro telespettatore, ci ha inviato queste immagini che riguardano lo stato di abbandono di una cantiere di manutenzione stradale in via Montaneglia, Villa Fastigi. Un cantiere ritenuto molto pericoloso soprattutto per chi vi transita di notte. Ricordiamo come sempre che potete inviarci le vostre segnalazioni alle numero di WhatsApp 370-366-7210. E per il settimo anno consecutivo la città di Pesaro ha ricevuto la bandiera zalla della FIAB che la certifica come comune ciclabile con il massimo dei punteggi. Una vocazione alla bicicletta che sta diventando sempre più importante anche in chiave turistica. Pesaro si conferma città della bicicletta. Il comune ha ricevuto per il settimo anno la bandiera gialla di FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che anche quest'anno ha segnato alla città 5 Smile, ovvero il punteggio massimo per l'inclinazione alla mobilità sostenibile in ambito urbano. È un riconoscimento del livello di ciclabilità del comune, il che vuol dire sicurezza urbana per quanto riguarda la mobilità e qualità sempre urbana per quanto riguarda gli spazi verdi, le zone 30 e quant'altro, può rendere una città sempre più accogliente. Siamo un comune che ha sempre investito sulla promozione della mobilità sostenibile, sulla realizzazione di piste ciclabili, ci rende orgogliosi avere per il settimo anno questo riconoscimento perché crediamo in una concezione di mobilità sostenibile ma anche di promozione delle piste ciclabili che ci sono nel nostro territorio che sono utilizzate dai nostri cittadini ma anche possono favorire sicuramente il livello turistico, il livello dell'attrazione turistica della nostra città. I turisti dovranno, ripeto, dovranno arrivare anche nell'Italia centro-settentrionale, già il flusso esiste però teniamo conto che nell'Italia settentrionale è molto più accentuato. Questo avverrà grazie alla ciclovia adriatica che, tra parentesi, è una, virgolette, figlia della FIAB che sta nascendo da Veneto, dal Friuli, anzi, fino alla Puglia passando quindi per le Marche. Grazie a questa ciclovia il flusso cicloturistico si inoltrerà anche nell'entroterra che ha bisogno di questo flusso perché ha tutto quello che può servire, che apprezzano in particolare i turisti che vengono dal nord Europa, cioè un posto pulito, tranquillo, dove si mangia bene. È lontano da quei centri che sono, diciamo, sovraccarichi di persone, pensiamo a città come Venezia, Firenze. I cicloturisti non ci vanno lì perché cercano qualcos'altro e si muovono anche fuori stagione classica, quindi in autunno, in inverno. E questo è un flusso che fa bene all'economia oltre che alla qualità della vita dei comuni e dei territori. E prosegue il festival organistico Vespri d'Organo a Cristo Re. Lunedì 15 luglio alle ore 21.15, ricordiamo, con ingresso libero, il secondo concerto ancora nella chiesa di Cristo Re, con un evento speciale tutto dedicato a Giuseppe Ripini, maestro di Cappella delle Duomo di Fano nel XVIII secolo. Ad esibirsi l'orchestra, core e solisti della Cappella musicale delle Duomo di Fano, diretti da Stefano Baldelli. Ed ora parliamo della rassegna Candelarte che propone la terza mostra della sua programmazione delle 2024. Il Castello di Candelara ospita il terzo capitolo della rassegna Candelararte 2024 con la mostra bipersonale dei pittori Francesco Campese e Maurizio Rapiti dal titolo Alienazio. Entrambi gli artisti hanno studiato la storia dell'arte europea e dalla rielaborazione di questa hanno generato con coraggio le proprie composizioni che in alcuni casi ripropongono sulle loro tele alcune icone intoccabili del nostro patrimonio culturale, rielaborate creando nel visitatore prima un senso di familiarità e subito dopo un senso di estraneazione che in latino si definirebbe alienazio. Il mio percorso artistico nasce nello studio di mio padre, famoso copista specializzato nella realizzazione di falsi d'autore. Nel suo studio è inprato a dipingere e nel suo studio ho iniziato a approcciarmi all'arte realizzando le copie di dipinti di pittori che hanno fatto la storia dell'arte. Quindi mi sono approcciato all'arte appunto realizzando queste copie fino a che a un certo punto del mio percorso ho deciso di emanciparmi dalle copie e iniziare a fare opere di mia fantasia. Se non che sempre al 2017 ho deciso di tornare a realizzare le copie di dipinti famosi però modificandoli, cioè inserendo elementi spesso contemporanei, comunque anacronistici rispetto all'opera originale per dare un nuovo significato all'opera. Quindi come in questo caso con l'opera della locandina della mostra abbiamo la Susanna di Hayes che nella schiena porta i tatuaggi. Ovviamente all'epoca in Italia era difficile trovare una ragazza con un tatuaggio del genere sulla schiena quindi è un elemento anacronistico che porta l'opera a diventare contemporanea o come su altre opere dove vediamo un soggetto per dire di Modigliani dove cerco di giustificare la lunghezza del collo tramite questo collare tipico della tribù Caglian che appunto porta ad abbassare le scapole e a creare questo effetto che sembra che ha il collo più lungo. Il mio interesse è il disegno geometrico e questi sono lavori che nascono nel 2015 e sono delle interpretazioni di opere della storia dell'arte ad esempio il San Cirolamo o il lavoro di Piero della Francesca. L'intervento è quello di togliere tutto quello che per me è superfluo e il risultato è questa architettura che diventa soggetto dell'opera. Mentre ultimamente quest'anno ho cominciato a sollevare queste strutture che diventano sospese. Entrambi dialogano con il concetto anche caro alla Capitale della Cultura 2024 di tenere insieme patrimonio, tecnica e sostenibilità alla natura della cultura partendo da quello che è il nostro patrimonio artistico, paesaggistico, paesaggistico nelle opere, artistico nell'insieme di capolavori che vengono reinterpretati, nel caso di Rapiti e anche della concezione metafisica degli spazi del lavoro di Francesco Campincia. È una doppia occasione per poter visitare Canderara e apprezzarne la bellezza architettonica, la bellezza dei richiami artistici di questi due pittori. Grazie a tutti. Il 21 luglio diventerà Capitale per una settimana. E vi ricordo l'appuntamento questa sera con il nostro nuovo programma targato a Rossini TV dedicato sempre a Pesaro Capitale, in questo caso estate Capitale, per vedere che cosa succede un po' nell'estate pesarese tutti i venerdì, vi ricordo alle 21.20, questa quarta puntata dalle titolo Un tuffo nella storia. Abbiamo avuto dei problemi per quanto riguarda le repliche, la messa in onda di Amministrando, dedicata ai nuovi sinesi, dedicata a Andrea Biancani, che quindi vi sarà riproposta questa sera alle ore 21.45, subito dopo il programma estate Capitale, e le repliche che vedete in grafica sabato, domenica, lunedì e martedì. Vi ricordo, come sempre, la nostra rassina stampa che torna puntuale anche domani mattina alle ore 7.20, in diretta sulla nostra pagina Facebook, sul sito, sulla nostra app, domani mattina ci sarà il nostro Marco Cadeddu. Ed è davvero tutto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon fine settimana.